Un risarcimento di quasi 400 mila euro ad un lavoratore della sede padovana di poste italiane che non era stato reintegrato dall'azienda dopo un contenzioso partito addirittura nel 2010 con una serie di licenziamenti operati da una cooperativa che lavorava appunto in appalto per poste italiane. Di questo gruppo di lavoratori sei sono stati riassunti, uno in realtà non è mai stato richiamato al lavoro da poste e poi loro hanno appellato alla sentenza, siamo arrivati in Cassazione, hanno perso sia in secondo grado che in Cassazione e questo ordine di ripristino del rapporto è passato in giudicato, quindi è diventato intangibile e nonostante ciò è posto e non è ancora provveduto al ripristino del rapporto di lavoro. Ragione per cui nel 2022 abbiamo proposto un decreto ingiuntivo, cioè un ordine di pagamento con il quale chiediamo tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento, quindi dal 2010 al 2022. alla data di deposito del ricorso, che assommano appunto circa 300 mila euro di capitale che con gli accessori di questi 12 anni diventano circa 400 mila euro. In più dovremmo anche chiedere adesso, a seguito della sentenza a noi favorevoli che rispinge l'opposizione proposta da poste italiane, chiederemo anche le retribuzioni degli ultimi due anni, quindi 2022, 2023, 2024. Un rapporto difficile, dicono i sindacalisti, quello con poste italiane e i rappresentanti dei lavoratori. Molto spesso noi ci troviamo anche di fronte a dirigenti che non pagano poi loro il conto delle scelte sbagliate che fanno perché cambiano continuamente, quindi noi ci ritroviamo di volta in volta a discutere con persone che cambiano e che alla volta successiva dicono sono appena arrivato, fammi vedere, fammi capire, però noi continuiamo ad andare avanti su quelle che sono le questioni di diritto. Poste italiane è ormai un'azienda privata lontana dalle dinamiche sindacali di anni fa che è in carenza di personale, anche per la gestione dello stesso, sottolineano gli esponenti della SLC CGL. Di conseguenza adesso per tanti giovani si dicono devo lavorare imposte per 1200 euro al mese, piuttosto vado a fare l'altro, quindi uscite per pensione e anche licenziamenti, questo comporta che ci sia un grossissimo desiti personale.